ragazzi quando vi avanza la pasta di spaghetti sapete cosa fare non buttateli potete fare anche voi questa bellissima frittata di spaghetti frittata di pasta alla calabrese guardate che bella io ho messo dentro otto uova sbattute prima ho fatto dorare gli spaghetti con un po d'olio sulla pentola interdirente fatto la crosticina a parto sbattuto 8 uova intere parmigiano un pizzico di sale latte sbattuto tutto poi ho togliato sopra i spaghetti potete vedere che c'è anche della salsiccia calabrese dolce e tanto provola silane ancora parmigiano mettete le uova sopra e fate cuocere piano piano fino a raggiungere una consistenza bella omogenea croccante della frittata adesso la rigiro dall'altra parte aspettate ragazzi fatela voi in cucina non si buttava niente questa frittata di pasta il giorno dopo fredda ancora più buona per le vostre scampagnate per le gite al mare o montagna qui sempre su bobo food on air e la cucina di nonna su youtube tic toc e youtube le vere ricette della tradizione italiana la cucina di una volta la cucina povera la cucina buona la cucina sana la cucina di nonna eccola qua sentite il suono magico la frittata di pasta alla calabrese la potete fare anche con la salsiccia piccante o con la soprassata alla calabrese perché c'è il salame dolce calabrese con tanta provola silano e parmigiano vedete che bella allora che fai non la fai questa magnifica frittata di pasta alla calabrese gli spaghetti allora falla anche tu segui la cucina di nonna e bobo food iscriviti perché gratis non vi costa nulla ma voi mi aiutate a far crescere il canale e porterò tante bellissime ricette italiane dalla cucina calabrese o delle cucine delle nonne di tutto il nostro bellissimo paese allora spero che vi piace la frittata di pasta alla calabrese quindi saluto tutti gli amici calabresi in italia e nel mondo e spero che vi ho portato un po di gioia e di italia e soprattutto di calabria nella vostra città ciao da bobo food lo chef calabrese di torino o su tik tok o su youtube tik tok bobo food od air e invece su youtube la cucina di nonna ciao al prossimo video